Tutto comincia qui vent'anni fa, quando arrivai qua a New York, era il 99 e le prime fotografie che feci quando ho iniziato a fare la produzione Birenti, sponsorizzata anche da Luciano Pavarotti, quindi cominciamo proprio qui, è stata una delle prime cose che ho visto ed è stata una delle prime cose che non immaginavo di toccare ma non mi rendevo neanche conto di dove fossi, da oggi dopo vent'anni siamo tornati per fare questo video e ora volevo così immortalare questo momento perché è una cosa speciale, anche dopo vent'anni sicuramente riprendere dopo tanto tempo e riuscire a tornare a New York per ricominciare una strada nuova, è una cosa che mi affascina tanto e spero che sia un grande inizio e che la fine non si veda mai